Dottor Ferrara, lei oggi in conferenza stampa ha affrontato l'argomento sanità, lei è medico, nella vita di tutti i giorni svolge la professione medica, ha parlato di quello che è stato negli ultimi mesi, proprio soprattutto a Chieti, anche l'emergenza sanitaria. Senz'altro sì, io sono stato in prima linea, come tutti i miei colleghi, nei mesi del lockdown, patendo ritardi e incongruenze che potevano essere evitate nel caso ci fosse stata più velocità e più lungimiranza da parte degli organi competenti sanitari. L'elenco e le chiede d'oleans sarebbe lungo. Cito quelle che ricordo più frequentemente, i ritardi nell'effettuazione dei tamponi, il ritardo nell'avere la risposta degli stessi, la mancanza di dispositivi di sicurezza, il problema dei farmaci a livello sperimentale che l'AIFA ci permetteva, attraverso una delibera nazionale, di poter utilizzare e la ASL e la Regione invece facevano tutto il contrario. Attualmente il problema più serio, più importante, è quello che tutti i giorni i miei assistiti mi dicono e ne sono afflitti, è il ritardo con cui le visite specialistiche, i controlli ai pazienti cronici, il ritardo con cui la ASL dà questi appuntamenti. Per cui noi temiamo moltissimo per la salute dei nostri pazienti che probabilmente nei mesi e negli anni che verranno potranno aggravarsi proprio per questi ritardi. La destra è un disastro per Chiedi. Hanno sottratto 30 milioni di euro per il nuovo ospedale che noi avevamo inserito, hanno fermato la gara e i lavori finanziati per l'UCCP a Chieti Alta nel vecchio presidio, hanno tagliato i fondi del master plan per quanto riguarda la funicolare e la bonifica a Chieti Scalo. O ancora abbiamo migliaia di prestazioni arretrate, 40.000 in tutta l'ASL, migliaia a Chieti, crollo delle prestazioni chirurgiche. Chi è l'autore di tutto questo? Sono le stesse persone che governano e rappresentano questa città da 30 anni. Si presentano in forma diversa ma sempre del centro-destra sono dall'attuale assessore regionale Mauro Febu al sindaco uscente di Primio, a Di Stefano, a tutti gli assessori, i consiglieri comunali che governano da decenni questa città. Diego Ferrara è l'unica vera alternativa.